Sulle rive sono le 6 e mezza del mattino, c'è un sole spettacolare. Cos'hai da dire su questo viaggio finora? Tutte le comunità mi sono piaciute, logicamente che più e che meno, però tutto sommato mi sono piaciute ugualmente. Un ricordo, un ricordo che ti rimarrà. Forse la festa a Castiglio. La festa a Castiglio 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 La festa a Castiglio